bene salve amico dove sono fa davvero molto caldo qui qui non siamo in montagna quei vestiti ti tengono caldo e come ti chiami piccolo uomo ma che stai facendo salsiccia scrim non hai sentito cosa ho detto assassino dovete stare tutti molto lontani dallo schermo sono stato chiaro la stagione della caccia inizia fra tre giorni cosa ci fai con quel cervo sul cotano non è colpa mia che si è fiondato sul mio camioncino e mi ha investito bene charlie bucket bene ho letto la tua storia sui giornali sono felice per te chi è questo signore a mio nonno nonno giù felice per te tutto proprio là in quella casetta oh guarda shaggy un vero locale del vecchio west un salù bell'imparatrice di denari io questa sera faccio piazza e pulita lega cultura e nulla adesso fuori dall'oppo ho perso i miei soldini e di un forte che domani incasseremo il nostro premio faremo una vita di siccheria ah non puoi giulare che lo incasseremo un paio di matti in deco al Moscone e ci becchiamo la recompensa caccia nella forza rossi Moscone bello grosso e di caspetta e domani è un'esimazione assaggierata la prima volta l'imparatrice di spai piccolo qui non siamo in montagna quei vestiti ti tengono caldo e come ti chiami piccolo uomo? mi chiamo semi pirata semi pirata vediamo un po' semi il pirata semi aaaaaaah ecco ti qui oddio mio oddio sei stato molto cattivo non è vero? eh? il diavolo me l'ha fatto fare non voglio dire il tapiro il nostro MJ che è un tapiro sudamericano e questa è una delle quattro specie della famiglia tapiride è erbivoro è riconoscibile soprattutto per la caratteristica probosce della corporatura ascoltatemi tutti attentamente questo assassino questo schermo serve a separare il mondo dei fumetti dal mondo reale sei arrivato in tempo l'assassino sta per far la serie vuoi dei popcorn? l'aria nel mondo dei fumetti è pressurizzata come su un aereo se si viene risucchiati nel mondo reale non si torna più indietro qualche domanda? ma che stai facendo? non hai sentito cosa ho detto? ma che stai facendo? sassiccia sassiccia ma che stai facendo? sassiccia ma che stai facendo? non hai sentito cosa ho detto? dovete stare tutti molto lontani dallo schermo sono stato chiaro? pronto? l'assassino indossava la maschera da fantasma proprio come nel film è direttamente responsabile tu lo prendi sassiccia tu lo prendi sassiccia ma stai facendo le persone stanno aereo ehi ehi come hai fatto? adesso ti uccido ehi smettila di toccarmi piedi assassino dovete stare tutti molto lontani dallo schermo sei arrivato in tempo l'assassino sta per far ehi non è vero? eh? il diavolo me l'ha fatto fare non voglio dire quel coniglio me l'ha fatto fare smettila sempre non sopporto di vedere un uomo adulto piangere va che bene Charlie ho letto la tua storia sui giornali sono così felice per te chi è questo signore? è mio nanno nonno Joe felicissimo di conoscerla trattoppiattela attacchassi la coniglietta vai tra chi go tra chi go tra chi go si sciuta gol si fatta la buccia il figlio no no signor pepe no ora il ragazzo è da scemi ah tu sei scemo ora dacci sotto questo è Nino D'Angelo mi��� να quel è diavolo me l'ha fatto fare non voglio dire quel coniglio me l'ho fatto fare chi asem Non so farlo di vedere un uomo adulto piangere. Eeeh, smette la... Joe, la stagione della caccia inizia fra tre giorni. Che cosa ci fai con quel cervo sul copano? Eh, sì, non è colpa mia. Quello si è affiondato sul mio camioncino e mi ha investito. Felice per te. Chi è questo signore? È mio nonno, nonno Joe. Felicissimo di conoscere la caccia iniziamocela. Stai rubando l'astronave, non sono d'accordo. La mia astronave? Oh, maledetto coniglio. Da te. Torna qui, giovanotto, dico sul serio. Questo coniglio. Becchio riflesso. Sì, buonan. Tu lo prendo il sassaggio. Dora che stai in città, non è giusto Ehi, che stai in città, non è giusto Non voglio guardare Che stava giù Ma che stai facendo? Assassino. Non hai sentito cosa ho detto? Assassino. Dovete stare tutti molto lontani dallo schermo. Sono stato chiaro? Sei arrivato in tempo. L'assassino sta per far la secca. Vuoi dei popcorn? Ehi, yo, DJ! Cosa c'è? Mi sa tanto che l'amico qui è semi svenuto. Ci penso io. Cosa c'è? E' un po' di liberi. No, 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 no. Eh? Aiuto? 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 Ah! Tu sei il ragazzino? No, no. Ho già tanto tossito, lo giuro. DJ, metti a tutto il volume. Io non penso. Non resisti, ma non cantare. Ci sto. E questo è quello che hai ugto che ho accrociato. Ciao. e no eh, il turno è finito 20 minuti fa però eeeh, Schweiger 이�hweiger Te night D'accordo, d'accordo, bene, qua la mano, affare fatto, oi oi oi, oi 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 come scotta, quanto scotta, quanto scotta, bene, e adesso vai. Per la riva cammini e ti lasci guardare, stogli riviste di moda, non ti va di studiare, se qualcuno ci prova, non ti firmi a parlare. E così.